Hai capito che voglio fare? Wow, sì, sarebbe fantastico! Ciao Claudio, ciao Mary R! Di che state parlando? Vi vedo molto indaffarati! È che stiamo organizzando una cosa per divertirci un po', per passare il tempo, altrimenti facciamo sempre le stesse cose! Sì, infatti, e Mary R ci ha avuto un'idea geniale! Uh, e cosa sarebbe? State organizzando una festa? Che dici, lo diciamo anche a lei! Mi è venuta un'idea? Amici di New Doll City, un attimo di attenzione, per favore! Allora, io e Claudio vogliamo fare una sfida! La sfida consiste nel fare il miglior scherzo al proprio genitore, oppure alla propria sorella, o che so, un'amica, ma vabbè, è meglio se un genitore! Deve essere proprio qualcosa di devastante e uno scherzo, insomma, fatto bene! Sì, infatti, e poi le Glitters voteranno lo scherzo migliore! Ovviamente tutto sta alla reazione da vittima dello scherzo! Più bello lo fate, più la vittima avrà una reazione esagerata! Uno scherzo ai genitori? Hmm, potrebbe essere divertente, no ragazzi? Oh, sì! La trovo una bellissima sfida da fare fra noi! Sfida super accettata, non avrò pietà! Muahahahaha! Yeee! Allora, buona fortuna, raga! E che vinca lo scherzo migliore! Uhuh! Che dici, JJ? Partecipiamo? Vuoi fare uno scherzo a mia mamma? Oh, sì! So cosa fare per far infuriare la zia! Glitters, mi raccomando, tenete d'occhio tutti gli scherzi e a fine video votate il vostro preferito perché sarete voi a decidere il vincitore! Uhuh! Valentina, ma sei sicura di voler fare questo scherzo a tua sorella? Non mi sembra molto efficace! Oh beh, è perché non conosci mia sorella! Aspetta! State a guardare! Ah, sono proprio curiosa! Che andi, tu hai già pensato a cosa dire a tua mamma? Oh sì, sì sì! Alice sta già preparando tutto Alice, shh, sentiamo Ciao, Chiara! Hi, sister! Che c'è? Come mai quella faccia? È successo qualcosa? Ecco, Chiara, io non so come dirtelo e... Ecco, me ne vergogno un po' anche per quello che è successo, ma... Ma dai, sweetie! Parla! Mi hanno aggirato il profilo e ho perso tutti i followers No, secondo me non funziona! Non è mica una cosa grave! Stiamo a vedere! Oh, tesoro, scusa! Per un momento la mia testa non deve aver funzionato molto bene! Mi pare di aver capito che tipo ti è crollato il profilo Instagram e hai perso tutti i followers! Ma ovviamente ho sentito male! No, sorellina, ti ho anche mandato la foto del mio profilo su WhatsApp Come vedi, ha zero followers Penso che non mi riprenderò mai più da questa cosa Mi hai mandato la foto... Zero followers! Valentina, stai calma, stai calma, non ti preoccupare Adesso risolviamo subito la cosa, ok? Aspetta, fammi fare una telefonata No, vabbè, ma è nel panico! Ve l'avevo detto Ma... ma chi sta chiamando? Zuki? Zuki? Allora? Mettiti dove prendi, qui abbiamo emergenza Ma... ma chi è questo Zuki? È il padrone di Instagram Ah, capisco No, Zuki, non mi interessa se sei in Africa a salvare gli elefanti, ok? Qui abbiamo una cosa più importante Mia sorella ha perso dei followers, ok? Quindi tu molla tutto quello che stai facendo e prestami attenzione Ma hai arrabbiato seriamente? Sì, sì, sì Calma, 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 calma Dobbiamo stare calmi I followers torneranno Sta tranquilla, non ci agitiamo L'importante è non agitarsi, Vale Non ti agitare, ok? Qui la cosa è gravissima Mi spieghi perché non sei agitata? Beh, ma perché? È uno scherzo! Uno scherzo? Era uno scherzo? No, vabbè, adesso l'ammaggia Vado alla mia lezione di yoga Ne ho bisogno Altrimenti i followers te li faccio togliere io Bello scherzo, Vale E poi ha chiamato Zuki Quindi mi sembra abbastanza pesante come reazione Eh sì, difficile di abbattere Ora andiamo a casa di Melanie Allora Melanie, hai capito cosa devi dire esattamente? Mi raccomando, devi essere precisa Oh sì, altrimenti nostra madre per come è fatta ti darà il suo supporto invece di arrabbiarsi Quindi devi farle capire quanto sei stata cattiva Eh, ok, però mi raccomando Cercate di reggermi il gioco voi Cioè parlate di più voi, ok? Così sarà più credibile Sì, sì, tranquilla, noi Ragazzi? Eccola qui Beh, che ci fate tutti lì? Fermi Io ho preparato dei biscotti Che ne vuole un po'? Oh, io, io ne voglio un po' Candy Mamma, in verità io non penso sia un buon momento per dei biscotti Melanie, forza, diglielo Se non lo fai tu, lo farò io Vi vedevo con delle facce strane Avanti tesoro, dimmi che cosa è successo? Tranquilla che lo risolviamo insieme Ecco, mamma, io Io sono stata Dai, Melanie Sono stata espulsa da scuola Cosa? Sono stata espulsa da scuola Tu? Espulsa? E cosa avresti fatto, Melanie? Deve esserci sicuramente un errore No, mamma, ho qui La lettera di espulsione firmata dalla preside E non ce la faccio a dirti il perché Quindi preferisco te lo dica Mike Mike, spiegami che cosa sta succedendo Melanie ha risposto malissimo alla professoressa in classe Hanno litigato La maestra l'ha cacciata ma lei ha continuato Si è messa a urlare per tutta la scuola Che la maestra era cattiva Che doveva essere licenziata La preside è venuta a saperlo e l'ha espulsa Melanie, non è possibile Tu non ti comporteresti mai così Beh, sì, lo pensavo anch'io Che quella professoressa mi ha fatto proprio innervosire E dovevo dirvi ne quattro Cosa? Melanie, mi dispiace dirlo Ma non ti riconosco più Mia figlia non si sarebbe mai comportata in questo modo Non si risponde, professore Dovresti saperlo Vabbè, ormai è successo Che ci posso fare? Eh? Dammi subito quel foglio Sì Che grande delusione, Melanie Che grande, grandissima delusione Signora Martinez La informiamo con la presente Che è tutto uno scherzo E c'è cascata in pieno Cosa? Tranquilla mamma Sono ancora io il teppista della famiglia Oh Melanie Che spavento Che avresti fatto se fossi stato vero? Ti avrei messa in punizione per tutto il resto della tua vita Oh Bene Bene, adesso mangiamo i biscotti E poi andiamo a vedere lo scherzo di Mary Air Allora ragazze Vi avviso Quando mia sorella si arrabbia Inizia a parlare in napoletano Quindi Poi vi traduco io Ok? Oh Ok Va bene Noi restiamo qui nel costo Ma sei sicura di volerle fare proprio questo scherzo Mary Air? Mi sembra un po' troppo Lo so Ma io voglio vincere Non mi piace perdere Annarella Ciao Devo dirti una cosa e... Allora Come va con la nuova macchina elettrica? Io lo sapevo che ti saresti divertita tantissimo Per questo non facevo altro che ripetere a mamma Mamma dobbiamo comprarle la macchina elettrica Perché così può andare dalle sue amiche Può andare a fare shopping Può andare di qua Può andare di là Eh sì Infatti ti volevo parlare proprio della macchina elettrica Che è successo Maria Rita? Perché quella faccia? Eh Stamattina ho fatto un piccolo incidente E si è rotta tutta la macchina Se vuoi ti faccio vedere Comunque sono già andata dai carabinieri E stanno risolvendo tutto Maria Rita Hai quella macchina da nemmeno cinque giorni Come hai fatto a fare già l'incidente? Eh proprio perché c'era da pochi giorni Ancora devo abituarmi a portarla Insomma è... Oh ma è andata così Che ci devo fare io? Oh mamma mia Ma allora non stai scherzando? Ma chi glielo dice a mamma e papà? Eh tu Cioè alla fine tu hai insistito per farmela avere Quindi la responsabilità è tua Wow Anche i genzi di colpa Oh mamma mia Oh mamma mia Ma che lo vieni a sapere mamma? Fanno un burtello Quando mia mamma lo verrà a sapere Farà tanto casino E mo sicuro non comprano la macchina nemmeno a me E no E perché mo perché la devono comprare pure a me? Perché così mo faccia un altro incidente Mo penseranno che non si possono fidare delle figlie Oh Non mi faranno più uscire il sabato sera Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia Mi sto sentendo male Mi sto sentendo male Oh mamma mia Mamma mia Mamma mia Mi sto sentendo male Sì vedo Forse sarebbe il caso di dirle che è uno scherzo Già la vedo molto provata Vabbè Annarella Facciamo così Controlla tu un attimo la macchina Magari non è niente È solo un graffio Ma tu mamma mi hai detto che è stato l'incidente Ma mi dici che è solo un graffio Ja Maria Rita Fammi vedere sta macchina Ecco Vedi qua Fammi vedere Ma qua sta scritto Scemo chi legge Ah 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 Ci sei cascata Wow Era tutto uno scherzo Bellissimo Che fai con le mie chiavi Annarella Sai che faccio Ma me ne porto a fare un giro Così tu la macchina Non la prendi per tutta la giornata Ciao ragazze Divertitevi Oh uffa Ora sono senza macchina Però ya Lo scherzo è venuto bene Oh sì Se non gliel'avessimo detto Penso che ci sarebbe morta Candy Ora tocca a Ari Ah già Ha detto che partecipava anche lei Andiamo Allora Ari Si può sapere perché mi hai fatto venire qui Per di più in un orario in cui non c'è nessuno Cosa devi dirmi Perché c'è tua sorella E soprattutto Perché c'è questo tipo Ultimamente stai gironzolando un po' troppo intorno a mia figlia caro Dovresti allontanarti un po' Eh mi sa che sarà difficile da oggi in poi signora Già mamma Forza Ari Su Falle vedere Alza la maglietta Wow Fermi tutti Perché mia figlia Perché mia figlia dovrebbe alzare la maglietta davanti a questo qui Perché così capiresti meglio Ecco io in questi giorni non mi sono sentita molto bene E quindi ho fatto un test Oh oh Lo scherzo degli scherzi è capitato proprio alla preside Eh già Chissà come reagirà Andrà su tutte le furie Un test Cioè tu Quando non ti senti bene Torni a scuola per fare dei test cara Molto bene Molto bene Vogliamo andare Mi state facendo perdere tanto tempo Non che mi state facendo innerfosire Mamma Tu non vuoi vedere la realtà Forza Ari E va bene Sono incinta mamma Signora non si preoccupi Mi prenderò tutte le mie responsabilità Oh oh Questa è la sua risata isterica Forse dovremmo chiamare un'ambulanza E non per il parto Tu Mio caro Scomparirai dalla faccia della terra Ti farò pentire amaramente di aver toccato mia figlia Non metterai più piede a Newtel City Anzi Non avrai più i piedi Non avrai Niente Ma mamma Mia figlia non può crescere senza suo padre Oh Invece sì Voi siete cresciute benissimo senza vostro padre Quindi Mio caro Claudio Hai esattamente Due secondi Per andartene via E tu Ari Verrai con me a casa E ne parleremo a casa Qualcuno la fermi perché secondo me tra poco uccide Claudio No mamma Io voglio stare con lui A me non importa cosa vuoi Ari Lui sparirà da questa città Adesso Ui va bene Allora E allora Che state facendo Niente le stavo togliendo la pancia signora Newtel City mi piace troppo Quindi voglio rimanere qua E Comunque io e sua figlia non siamo insieme Quindi insomma Sarebbe stato pure impossibile Ci vediamo È stato molto bello Vederti arrabbiata Per una volta Era Era uno scherzo Sì Era uno scherzo A me sembra Si stia tipo caricando Per rincorrere qualcuno Oh Questa non ve la faccio passare Lescia Oh Aiuto Venite subito qui Tesorini Vi metterà in punizione per sempre Oh no Dai mamma Era uno scherzo innocente Non potrete più comprare i vestiti O andare alle feste No 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 Wait Si sta esagerando Già mamma Dai Sembra ancora arrabbiata Scappiamo Tanto vi prendo Wow Corriranno per tutta Newtel City Già Bene Candy Ora tocca a tua mamma Oh sì Andiamo E questo è il tuo scherzo Candy Un Un piatto di insalata Sì perché questa non è insalata È marshmallow Cosa? Wow Sembra proprio insalata Devi sapere che mia mamma Si vanta sempre Di non aver toccato Mai Mai Dolci in vita sua E sta molto attenta A non farlo appunto E oggi Tutto questo Crollerà E secondo te ci cascherà E se dovessi sentirne l'odore Tranquilla Adesso spruccerò del mio profumo unicornoso Per tutta la casa Così non potrai sentire l'odore di marshmallow Buongiorno Candy Buongiorno Glitter Come va? Che ci fate da queste parti? Oh Candy Hai sprucciato un po' troppo profumo Allora Oh che bello È arrivato il mio piatto di insalata Un po' diversa Dalle altre volte Non ci sono le carote Oh beh Forse le avevano finite Eh sì 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 Tutto finito Però Ehi Quell'insalata sembra freschissima Mmm Beh Non moltissimo Ma Ok Proviamo Oh Ma come mai voi siete qui? Oh Stiamo aspettando Daisy Eh Tu mangia pure Tranquilla Non Non sentirti I miei I nostri sguardi addosso Sì In effetti ho notato Che mi state guardando In modo strano Ma Vabbè Io comunque devo mangiare in fretta Perché devo scappare Mmm Che Che c'è mamma? Non Lo so Mmm E dai mamma Mangia E qua abbiamo tutti in fretta Oh vabbè mamma Sai che ti dico Adesso lo riporto indietro Poi Ci metteranno un bel po' Per far arrivare Della nuova insalata E tu farai tardi Oh Hai ragione Hai ragione È meglio che mi sbrighi Mmm 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 Co Com'è? Sì Com'è? Mmm Eh Non è insalata Ha un sapore così 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 Buono Oh Ne voglio acquittali No Aspetti Quello è È tutto marshmallow Non ne può mangiare tantissimo No infatti mamma Non ci mangia tutto quel marshmallow Oh no Oh no Come Come ti senti adesso? Felice Mi sento felice Non avevo mai provato una cosa così buona e gustosa Oh Però Ora devo andare a stendervi un po' sul letto Candy Parleremo più tardi della tua punizione per avermi fatto questo scherzo Ciao Eh sì Troppi marshmallow forse sono un po' pesanti Marina Allora A voi com'è andata? Oh non bene Avevamo detto a mia zia di essere diventate povere Ma A quanto pare Lei ha tante altre carte di credito Tanti altri portafogli E quindi Non ci ho creduto Oh Mi dispiace Bene Glitters Il nostro video finisce qui Adesso mezza New Doll City È in punizione Ma ci siamo divertiti tantissimo E voi avete mai fatto degli scherzi ai vostri genitori? Soprattutto Glitters Non dimenticate di votare il vostro scherzo preferito Mettete un bel palice in su Se il video vi è piaciuto E cliccate qui per iscrivervi al canale E qui per non perdervi tutti gli altri video Dedicati ai vostri giacchi preferiti Noi ci vediamo al prossimo video Ciao